Avviati i lavori per il ripristino della parete rocciosa sulla strada statale 187 che collega Castellammare del Golfo nel Trapanese con la stazione ferroviaria. Il crollo della parete Tufacea all'altezza del chilometro 42-900 avvenuto verosimilmente per effetto delle infiltrazioni d'acqua e per il carattere particolarmente friabile della roccia ha provocato in questi mesi notevoli disagi alla mobilità. I lavori che dovrebbero concludersi nel tempo massimo di 90 giorni sono seguiti dal Genio Civile di Trapani appositamente incaricato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana. L'importo delle opere che ammonta circa 270.000 euro rientra nella dotazione stabilita dall'ordinanza 558 del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale emanata a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in molte regioni, tra cui la Sicilia, a partire dal mese di ottobre scorso. Nonostante la durata dei lavori sia stimata in un massimo di tre mesi, dichiara il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ci stiamo impegnando affinché l'impresa possa concludere prima del previsto riducendo così al minimo i disagi per i cittadini e per i turisti. Grazie.